Di Maio deve sbettere di fare l'ipocrita e di continuare a criticare Salvini che fa il Ministro degli Interni grazie ai 5 Stelle e ai suoi voti. Lo ha detto Nicola Zingaretti a Pescara in una iniziativa elettorale del Partito Democratico in vista delle europee e le comunali di domenica prossima. Un anno fa c'è chi è stato capace a raccogliere i problemi degli italiani, a rappresentarli, ma non li sta risolvendo. Anzi purtroppo stiamo assistendo a un triste spettacolo di una lite continua che ha fermato la produzione, fa crollare i fatturati dell'azienda, aumenta la disoccupazione, fa crollare la fiducia nel mondo del commercio, nei cittadini che non comprano, aumentano i mutui per le imprese e per le famiglie. Quindi bisogna dare un segnale perché gli italiani non sono polli d'allevamento. È vero che qualcuno ha rappresentato i problemi degli italiani e le loro paure, però non ha risolto nessuno dei problemi che gli italiani hanno e quindi noi siamo tornati in campo con una lista unitaria proprio per cominciare a ricostruire un'alternativa. E a proposito del Consiglio dei Ministri, terminato a tardanotte con un nulla di fatto, ha aggiunto. Uno voleva fare quello sulle famiglie, l'altro sulla sicurezza. Quello sulle famiglie non ha copertura economica perché non c'è un centesimo da metterci sopra, quello sulla sicurezza non hanno idee, non sono d'accordo e l'Italia aspetta, mentre invece sulle famiglie bisognerebbe fare molto perché le famiglie molte non fanno figli perché non arrivano a fine mese. Se noi abbiamo detto assegno unico per ogni figlio per dare una mano, così come sulla sicurezza, presidi nei quartieri, sostegno alla polizia, hanno tagliato le risorse sulle forze dell'ordine e lo chiamano sicurezza per parlare a una paura delle persone che c'è. Ma la paura delle persone va risposta con la serietà e con gli atti e invece si vedono in un CDM, in un Consiglio dei Ministri perché non sono d'accordo su nulla e questo è inaccettabile.